I viticoltori abruzzesi sono in ginocchio a causa della peronospora, ma anche del mancato arrivo di risarcimento dagli enti preposti. In provincia Chieti Samani si sono riuniti 45 sindaci di tutta la regione per tornare a chiedere ancora una volta aiuto alle istituzioni. 200 milioni di danni per un comparto importante della nostra agricoltura. Il sindaco di Tollo e presidente nazionale Associazione Città del Vino, Angelo Radica, parla di una situazione ormai insostenibile per i lavoratori, le famiglie e teme anche ripercussioni sociali. I 45 sindaci hanno sottoscritto un documento comune in cui impegnano le istituzioni a risolvere la problematica che diventa sempre più grave. Sì, innanzitutto una precisazione, i 45 sindaci appartengono a tutte le parti politiche della regione Abruzzo, prevalentemente sono della provincia di Chieti perché è la provincia più vitata e quindi di conseguenza più colpita. Oggi ci siamo convocati, ho scritto un documento a cui hanno aderito altri 44 colleghi e che fa il paio con ciò che è stato chiesto da 14 associazioni, anche da parte mia perché io sono presidente di Città del Vino. Cosa chiediamo? Chiediamo tempi certi perché sia la regione che il governo hanno attivato delle procedure, nello specifico il governo ha dichiarato lo stato di calamità con un decreto del 24 di gennaio, la regione ha stanziato 5 milioni di euro, però ad oggi nessun euro è arrivato nelle tasche dei viticoltori abruzzesi. Non solo, ci sono cose che potrebbero essere fatte, perché i tempi per la ristoro sono tanti, sono lunghi, però poteva essere fatta la sospensione dei mutui e lo sgravio contributivo dei IMS, pur e purtroppo nonostante il governo abbia avviato questa procedura è ancora lunga da venire. Noi come sindaci, prosegue Radica, lanciamo un grido d'allarme perché temiamo per la tenuta sociale delle nostre comunità. Scusate se parlo del mio paese, a Tollo su 1.400 famiglie abbiamo oltre 800 famiglie ma di più che campano di viticoltura, se questi non hanno percepito nessun, non hanno soldi, come fanno a onorare gli impegni con i mutui, come fanno a fare la spesa, come fanno a portare i bambini a scuola? Chiediamo al governo nazionale, aggiunge Radica e alle regioni Abruzzo, sapendo che nessuno fa miracoli perché di fondi ce ne sono pochi tempi certi. Oltre a noi ci sono altre sette regioni, come noi il danno stimato totale è di un miliardo di euro, quindi a fronte di un miliardo di euro di richieste ad oggi abbiamo 17 milioni, quindi chiediamo almeno che ci siano una parola di verità e così gli agricoltori sanno come comportarsi. Grazie a tutti.